Cambiare il regolamento dopo aver ascoltato il brano, quindi valutando che fosse un brano meritevole, hai deciso di cambiare il regolamento e di inserire totalmente un brano in napoletano. Se fosse stato presentato un brano che sono siciliano o sardo, incomprensibile in più, ma ti fosse piaciuta la melodia e l'armonia, l'avresti ugualmente cambiato? Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che dici è assolutamente sì, se si fosse un brano sardo siciliano o altoatesino, che però è una melodia, è un senso, è una cosa, peraltro la cosa che ho già detto perché mi è stata fatta già questa domanda, oggi quel brano in realtà questa è una cosa in più, cioè la musica e il rap napoletano in questo momento non è solo Joliet, ma da tempo ci sono tanti rapper e quella musica e quel modo di rappare non appartengono solo alla città di Napoli, tutti i ragazzi d'Italia conoscono Lucchè, conoscono Joliet, conoscono veramente tutti i rapper perché in questo momento sono in auge, quindi non è solo un'identificazione locale e regionale, ma è totalmente nazionale.